non so ma voglio fare tutta la fase villaggio in un'unica volta anche perché è quasi andata ci manca uno e uno cioè ci manca uno in realtà e poi no questi ci stanno attaccando vuoi vedere ah no ma ho paura che ah no quelli no questi più che altro bisogna starci attenti allora uno e uno due date riparare qua riparate riparate allora via via altri raccogliete del cibo perché abbiamo bisogno di cibo per costruire i corni altrimenti non ne combiniamo nulla qua ma tu cosa fai devi raccogliere sono in due lavora e tutti gli altri sono a fare niente piuttosto che non fare niente andate tutti a riparare la dai ce la fate ce la si fa ce la si fa riparate appoggia il cibo appoggia il cibo se poggi il cibo forse abbiamo abbastanza per costruire il bastoni di raccolta questo serve vai così mo appena questi hanno finito avete finito si tutti con i bastoni di raccolta no un'altra tribù sta attaccando non proprio ora no no Grazie a tutti. Vai a poggiare qua, vai a poggiare qua, vai a poggiare qua. Eh no, eh no, eh no, eh no, dobbiamo andare qua, qua, qua. Veloci, veloci. Portare un regalo prima che ci distrugga tutto. Belli, veloci, veloci. Veloci, cribbio. Ok. È neutrale, allora almeno possiamo andare a riparare. Oddio. Tutti a riparare, tutti a riparare. Questo, questo, questo sta morendo di fame. Andate a mangiare. Ok. Ah, non possono costruire più di tot, lol. Tutti col bastone da raccolta, chi è che non ha ancora bastone da raccolta? Ok. E mo' andate a raccogliere. E raccogliete un sacco, please. C'è bisogno di un sacco di cibo per costruire l'altra capanna, quella dei corni. Perché senza corni non andiamo da nessuna parte. Claro? Claro! Sì, socializza una creatura selvatica, ma non l'ho fatto. E non so se lo farò. Perché non voglio delle creature selvatiche? Oh, mi sta portando un regalo. Ok, 30 ne abbiamo. Allora noi costruiamo il coso dei corni di legno. Sì, ma continuate a raccogliere, eh. Che ci serve un po' di cibo. Allora, adesso... Uno, due, tre... Corno. Uno, due, tre... Maracas. Uno, due... Digeridoo. Speriamo che bastino. Ognuno ha il proprio strumento, perfetto. Allora, andiamo. Qua stanno portando il regalo? I verdi. Ma no, io volevo accettare quello. Vabbè. Ah, ci fa suonare? Ci fai suonare? Sì, dai, 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 dai. Perfetto. Questa fortuna che ne vuole due. Che con questo, se non sbaglio, ci aumenta la capanna e quindi possiamo fare altri figli. Alleati anche loro. Yeah! Ah, sì, è stata fondata una nuova tribù, quella là. Che dovremo ingraziarci probabilmente. No, sto video sta diventando di sicuro troppo lungo. Credo, temo che lo dividerò in due parti. E forse saranno due parti anche quelle lunghe. O, scu... Cioè, scusatemi ragazzi. Vi chiedo umilmente perdono. Sì, hanno condiviso alcuni strumenti, ma non me ne frega un Kaiser perché saranno cose di guerra a questo punto. Credo, perché... Perché... Oh, è così grande. Ok, tutti e tre. Allora, andate un attimo a prendere i bastoni dal code. Ma io non me lo ricordavo così, sapete ragazzi? Davvero. Forse ho giocato una versione più vecchia io. Non me lo ricordavo così. Ma è bello così. Tutti col bastone da raccolta e tutti raccogliere cibo. Perché temo che quelli dobbiamo... E infatti, dobbiamo portare un regalo a loro. No, ma in realtà ce l'abbiamo abbastanza cibo per portare un regalo. È meglio andare subito a portare il regalo allora. Perché sennò... Capo Babizia. Sono questi che iniziano ad attaccarci, dobbiamo poi riparare la roba e un sacco di... Di grane. Mangerò dell'insalata allora. Nel frattempo. Perché io può. Io si può. E chi non può? E io può. Io si può. Eccoci, carissimo. Ma siete proprio brutti, eh. Sembrano degli insetti stecco. Forse era meglio sterminarli, eh. Però... Preferisco suonare. Forse è così facile vivere. Ah no, ho dimenticato gli strumenti di casa. Scusate, torniamo tra un attimo. Alleati, alleati, alleati. Beh, ce ne mancano due. Ah, questi e questi. Allora, facciamo... Voi tre... Prendete le maracas. Poi, uno, due, tre. Voi, te di Geridoo. E uno, due, tre. Prendete i corni. Questi due. Ah, chi deve mangiare, mangi. Poi, quei due li mando a raccogliere. Così hanno un po' di... Ma state mangiando? Anche questi salmi muoiono. Ok. Hanno mangiato. Andate a raccogliere. Gli altri qua... Invece li mando... In spedizione diplomatica qua. Oddio, cos'è sta roba? Abbattetelo, abbattetelo. Ma li stermina questo? Oddio! Ma il capovillaggio chiamo? Ehm... Boh. Vattene, ecco. Meglio così. Cioè, gli è morto il capovillaggio la fin fine. Pensa a una pozione. Quello che c'è... Ma no, ma scusate, dove sono andati a finire gli altri? Tutti qua. Ma tutti? Gli altri dove sono? Dove sono andati gli altri? Ma dove sono qua? E gli altri? Ah, ma sono laggiù, ma... Ditemi se è possibile. State arrivando? Oh, ma ho dovuto portare pure quelli qui. Oh, dei. Ci siamo a questo giro? Pronti? Grandi concerti! Perfetto. Altra audience. Please, 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 please. Ah, è rispawnato il capovillaggio, là. Yeah, 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 yeah. Dai, Maracas. Sì, mi stanno arrabbando il cibo, ma non mi riferisco a un Kaiser. Tanto ormai dovrebbe essere a posto, infatti. Non so se ho dato il comando in tempo. Yeah, tutti contenti. Ci mi daranno degli edifici inutili. E anche gli accessori, tanto sono inutili. Cos'è sta roba? Ma quali sono dei miei mozzo? No, sono dei mozzo non evoluti! Oddio! Ce l'aveva con i mozzo non evoluti! Ok, dai, suoniamo! Non so se gli basta quello che abbiamo, perché non abbiamo quattro di tutto, eh. Abbiamo tre di tutto, eh. Sì, gli è bastato, per fortuna. Ma non abbiamo quattro di tutto, anche perché non abbiamo abbastanza gente per fare tutta sta roba, eh. Belli? Cioè, beh, beh. Belli mica tanto, però, cioè. Nel senso, va bene così, dai. Eh, beh, bisogna essere belli dentro. Mhm. Ma dentro come nel cuore. Esatto, sì, dentro in quella direzione, ecco. Non da altri pertugi. Vabbè, dai. E anche questi sono alleati, quindi... Yeee! Ok, la fase tribù è completata, ciurma! Clicca sul pulsante avanza, ma non ancora, io vorrei farli tornare un attimo a casa. Vedere che cosa si può fuare. Soprattutto con la personalizzazione qua del tizio. Cos'è che ha? Combattimento, salute, raccolta... E ma sono tutte quelle robe là che non servono a niente. Alla fin fine. Io gli toglierei anche tutto a sto punto. Quello che non serve, insomma. E lasciarlo così. Tanto poi sono robe davvero abbastanza ininfluenti, queste cose. Cioè, la fase, la fase tribù è una di quelle meno sviluppate alla fin fine. È una delle meno sviluppate in assoluto. E... È un po' dispiace. Perché... Vabbè, la fase cellula ha tutto quel suo meccanismo particolare. La fase... Ehm... Creatura ha tutte quelle migrazioni. Poi bisogna cercare i pezzi giusti per poter convincere gli altri ad essere amici. Mentre qua, invece, è linearissimo. È davvero tanto lineare. Detto questo... Ragazzi, io salvo la partita. Ci vediamo... Nel prossimo episodio di Spore. Avrò diviso in due o forse anche in tre. Non lo so. Vi invito a lasciare un mi piace se per caso gli episodi vi sono piaciuti. E iscrivervi al canale se per caso non lo aveste già fatto. Ciao a tutti! Ciao a tutti!